Quanto dolore per questa povera madre. Non ritornare in sette anni, neppure una volta, neppure per pochi giorni a vederla. E alla fine, ecco, ritornare per morirle così d'improvviso. Parla da sola, sottovoce, muovendosi. Come dovrei dire allora? Che Dio vuole che mi viva ancora mio figlio. Ho tagliato in due la mia vita io. Ma ne hai una in te? Ma come? Flavio, Flavio! Lo so, lo so che qua non dovrei ridere, ma tu ci parli e ci guardi in un modo così curioso. Siedi qui accanto a me e fatti chiamare figlia. Sì, si è fatto buio qui. E li cerco con gli occhi perché quasi l'ho vinto. No, Anna. No, signora, non lo faccia. No, signora, non lo faccia. Grazie.